Oggi viene illustrata un'importante novità che riguarda il Cotap e i tassisti di Pescara, questa app a disposizione dei clienti che faciliterà e agevolerà la prenotazione e la richiesta di un taxi. Assolutamente sì, noi siamo lieti di presentare questa innovazione. Anche Pescara fa parte di una piattaforma nazionale di cui fanno parte 98 flotte, tra cui le città maggiori quali Roma, Napoli, Firenze, Milano per fare le più importanti, a seguire. È facilissimo da usare, quindi l'utenza avrà proprio a disposizione un mezzo per chiamare i taxi velocissimo e noi siamo ultra felici di dare questa possibilità alla città di Pescara. Guardi, noi siamo felicissimi, già vediamo Pescara in fermento e le dirò di più. Gli stranieri ci hanno sorpreso alla grande perché hanno l'app già scaricata, perché è una app che sta sul mercato da svariato tempo. E quindi siamo noi che abbiamo fatto questo passo ad unirci a questa piattaforma. Però le dico che tutti gli stranieri che stanno arrivando, e stanno arrivando fortunatamente dopo questo periodo di fermo, hanno già l'app scaricata e la stanno utilizzando a Pescara. Quanti sono per chiudere i tassisti del Cotape che operano nella città di Pescara? Allora, i tassisti della Cotape sono 39. Operiamo tutti con svariati tipi di auto, quindi diamo la possibilità al cliente di scegliere tutte le esigenze di cui hanno bisogno. Quindi se uno ha l'esigenza di portare un cagnolino, portatori di handicap, macchine con più posti, ha a disposizione quindi una svariata tipologia di flotta.